Ciao a tutti, sono Iris Cappiello, Master Musa. Ho sempre pensato che per realizzare dei decori in salone bisogna recuperare del tempo in fase di copertura ed è per questo che sono molto entusiasta di presentarvi questa novità che nasce proprio per recuperare tempo in salone, per velocizzare quindi i tempi di un refill. Ho rinforzato il bordo libero con acrylic gel, un materiale un po' più rigido, perché sto utilizzando un nuovo prodotto due in uno, ovvero la Color Base, nella colorazione French Rose. Questo prodotto nasce per donare sia rinforzo che coprenza all'unghia naturale. La sua caratteristica è di essere più flessibile ed è per questo che ho bisogno di rinforzare la punta nel caso in cui volessi coprire una lunghezza maggiore. Ecco, sono pronta finalmente per decorare e realizzare una delle mie nail art preferite, ah, mi godo davvero questo momento. Realizzo dei ghirigori in superficie dopo aver applicato Hard Top con il pennello Liner 2 e Art Gel nero. Mi rilassa davvero tanto decorare e amo davvero molto questi decori. Termino la mia nail art andando a polimerizzare il mio decoro per 60 secondi in lampada LED 48 W. Spero che il risultato finale vi sia piaciuto e al prossimo video! Ciao! Ciao!